Lo terrigo piano è stato costruito sopra colate e accumuli di detriti preesistenti, compresi quelli da valanghe. Lo testimonia la mappa geomorfologica dei bacini idrografici della regione Abruzzo sin dal 1991, ripresa e confermata nel 2007 dalla mappa del piano di assetto idrogeologico della giunta regionale. Secondo quanto documenta il Forum abruzzese per i movimenti dell'acqua, la mappa evidenzia nel sito conoidi di deiezione, ossia un'area rialzata formata proprio dai detriti che arrivano dal canalone a Monte dell'Albergo. La mappa regionale del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del 2007, che conferma quella del 1991, è la 350 ovest rintracciabile sul sito della regione. Si vedono tre segni grafici verdi a forma di cono che convergono verso l'area dell'albergo e rappresentano il movimento di flussi di materiale che nel tempo si è accumulato alla base del canalone. Già dagli anni 50 si è a memoria di una struttura di rifugio, ma l'hotel è costruito negli anni 70 ed ingrandito dopo il 2000. Il fatto che ci fosse prima una struttura più piccola non vuol dire granché, spiega Augusto De Sanctis, perché i tempi di ritorno di questi fenomeni estremi possono essere più lunghi di qualche decina di anni. Un po' come avviene per le piene dei fiumi, ci sono gli eventi che immediatamente avvengono ogni 50 anni, quelli più importanti che avvengono ogni 100 anni e poi quelli estremi che possono avvenire ogni 500 anni e che raggiungono aree inusitate. Le carte del rischio tengono appunto conto di questa periodicità, perimetrando aree sempre più vaste al crescere del tempo di ritorno. L'esistenza di una mappa conoscitiva però, ad avviso di De Sanctis, non si è tradotta per omissione della regione in una mappa del rischio valanghe che era prevista dalla legge 47 del 92, cioè 25 anni fa. La legge prevede per le aree a rischio accertate o potenziali o l'inedificabilità o per strutture esistenti il divieto di uso invernale. Non è stato fatto un piano valanghe, ma comunque, continua l'esponente del forum, nel percorso di ristrutturazione dell'hotel si doveva evidenziare il contesto di rischio e agire di conseguenza. Grazie a tutti.